Siamo nella zona del mercato alimentare di Pesaro dove appunto si terrà l'ultima giornata degli ambulanti in questa location poiché dal 20 febbraio saranno spostati a San Decenzio assieme agli altri stand, agli altri ambulanti del vestiario manterranno però comunque un'area dedicata agli alimentari e aumenteranno i parcheggi per i cittadini. È stato un lavoro fatto in un anno coinvolgendo le associazioni di categoria ma anche gli ambulanti stessi. Abbiamo fatto una serie di incontri in comune dove abbiamo capito che era importante riqualificare il mercato cittadino e in qualche modo dovevamo fare anche un'azione forte anche per la sicurezza. Quindi abbiamo pensato oltre al beneficio dei cittadini di avere un centro commerciale naturale all'aperto e quindi avere la possibilità di andare al mercato e comprare sia l'abbigliamento ma anche la spesa della settimana come fanno tanti cittadini garantendo comunque i parcheggi, anzi aumentare i parcheggi per i cittadini che si recano al mercato. In questo modo aumentiamo il parcheggio dalla parte del centro e quindi ci saranno 90 stalli che possono utilizzare gratuitamente per 90 minuti e anche a fianco proprio all'alimentare abbiamo pensato a 12 parcheggi per i disabili o per comunque le persone che vanno a fare spesa sapendo che la frutta e la verdura ha un costo. Alla fine questo spostamento, parliamo di uno spostamento di 200 metri, non è che parliamo di uno spostamento di chilometri o comunque vengono nascosti, anzi vengono valorizzati. Quando gli ambulanti ci hanno chiesto di poter accorpare è un inizio di un processo di rinnovamento del mercato stesso. L'accorpamento dà l'unità di intenti sia dalla parte del cibo, quindi del food, e dall'area del non food. Questo che cosa porta? Porta a far diventare questa piazza mercato. Questo sarà il primo degli altri interventi che chiederemo alla amministrazione comunale come quello di poter accorpare anche altri operatori e cercare di rendere più omogeneo il mercato stesso. Sì, finalmente martedì 20 febbraio avremo l'accorpamento del mercato alimentare ed extraalimentare. Ed è più fruibile per i cittadini perché comunque sia troveranno in un'unica area sia il food che il non food con 250 posti auto nel parcheggio nuovo che è stato inaugurato pochi mesi fa e qualche parcheggio con il disco orario per il carico scarico della frutta. Gli ambulanti come hanno vissuto questa novità? Perché inizialmente ci sono state delle polemiche e poi però probabilmente è bastato un po' spiegare quello che sarà la situazione dal prossimo mercato per ristabilire la quiete. Sì, all'inizio erano un po' diffidenti però secondo noi il food lavorerà anche di più perché comunque prenderà anche le persone che gravitano nella zona del San Decento e che adesso perché abbiamo due mercati separati non vanno nell'area alimentare. Siamo d'accordo con questa cosa qui quindi là sicuramente sarà anche più comodo per i clienti perciò è una cosa che siamo favorevoli. Noi sicuramente siamo positivi che pensiamo in bene, speriamo che giustamente sarà il problema i primi martedì che la gente non sa dove sei, dove non sei, però io penso che dai è tutto un continuo tra l'abbigliamento alimentari, speriamo che funziona, noi ci speriamo solo quello. È molto piacevole perché essendo più unito la gente anche se deve ricambiare le cose che magari non vanno bene, è più facile ritrovare la bancarella perché è più unito, noi siamo più popolari, no? Siamo più uniti quindi ci piace un mercato molto unito. Anche per le banche che ci sono è un bene perché la gente che gira le verdure poi guarda e poi questo lo compro, poi compro invece essendo là tanti si fermano là e non fanno il giro. Invece qui obbligati va bene anche per tutto il mercato. Grazie a tutti! Grazie a tutti.